Ignazio da Russa è il nuovo presidente del Senato. A Palazzo Madama l'elezione della seconda carica dello Stato dopo che ad aprire i lavori è stata Liliana Segre, un discorso appassionato interrotto più volte dall'applauso dell'emiciclo, quello della senatrice a vita. Il passaggio di consegne da Segre alla Russa è stato commentato così da Vincenzo De Luca. Godetevi e godiamoci, Ignazio Benito, presidente del Senato. Sentivo venendo in macchina la trasmissione lì, la Segre sempre con quella emozione straordinaria per questa donna straordinaria e devo dire che c'era a stare male, a pensare che lasciava quel posto la Segre e andava la Russa. Parole, quelle del governatore della Campania, scandite al Festival delle Città, promosso dalla Lega delle Autonomie Locali. De Luca ha risposto così anche alle accuse di familismo che gli vengono mosse. Nessuno si è permesso di dire che Mattarella è espressione del familismo. Suo padre era ministro, suo fratello era presidente della regione Sicilia, è stato ucciso dalla mafia. Parlare chiaro, il tempo della demagogia deve finire. L'elezione di La Russa è stata commentata anche da Luigi De Magistris, da una donna antifascista che ha la Costituzione nel corpo e nell'anima ad un uomo che il fascismo e i suoi simboli non li ha mai rinnegati, il buio della Repubblica, il durissimo atto d'accusa dell'ex sindaco e leader di Unione Popolare.